Si mobilita anche la politica per questo finale arroventato che vede protagonista a suo malgrado la Virtus Lanciano. Questa mattina alle ore 12 il sindaco Mario Pupillo, assistito dall'avvocato Vittorio Orlando, hanno presentato un esposto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano proprio per fare chiarezza sull'argomento, proprio su questo finale di stagione che ha visto coincidere un nuovo deferimento, almeno presunto, e anche il rinvio dei play-out. Lo ricordiamo, questa sera la Virtus si gioca la salvezza contro il Livorno. Quindi Pupillo ha depositato questo esposto alla Procura della Repubblica. Poi il consigliere regionale Camillo D'Alessandro ha annunciato anche sui social un'interrogazione parlamentare per voce della senatrice Stefania Pezzopane proprio sul finale di stagione. Noi vi daremo gli aggiornamenti anche nel prossimo telegiornale di questa sera delle 19 e ovviamente in diretta quando seguiremo le fasi di Livorno-Virtus Lanciano. Per il momento è tutto, a te la linea Alfredo.